Ciao a tutti, sono Andrea Casella, faccio parte del gruppo di Papa Nazione da giugno 2021. Il weekend scorso siamo stati al primo residenziale dal Benga. E' difficile parlarne, tradurre in parole quello che è successo, quello che abbiamo provato, quello che ho provato, quello che ho trasformato, lasciato andare, sentito. Quello che mi porto dentro di me è la pace, la fratellanza, l'unicità, la connessione con gli altri ragazzi, il profondo amore, la profonda sicurezza di sapere di non essere giudicati e la capacità di potersi dare il permesso di vedere determinate cose e di scegliere di lasciarle andare. Sapersi fidare del buio e di quello che raccoglie e di tutte quelle sensazioni ed energie che si sono sviluppate in questi giorni meravigliosi. Sono profondamente grato ad Angelo e a tutti i componenti del gruppo, sia quelli che erano con me che quelli che arriveranno sicuramente a fare questa esperienza meravigliosa. Perché spesso a casa, la casa non è un luogo, ma è un posto dove ci si sente al sicuro, ci si sente visti, ci si sente amati. E in questo residenziale io ho avuto la possibilità di sentirmi a casa, prima con loro e poi dentro di me. Vi voglio bene.